Vede lì mi sento basso! E' la player camera quella che... Mi sono abbassato! Benvenuto nel mio mondo! Vede lì ti arrivo al culo! E allora? Vede lì ti arrivo al culo! Che devo fare? Che cosa fa il gamberetto? Il gamberetto è così normalmente no? Però poi che succede? Vedete che quando lo cucine è più così Se chiude al gamberetto Diventa così! Diventa così! Capito? Diventa così! Ok? E questo è un gamberetto! Quindi è questo quando si intende Quando si intende chiudersi al gamberetto Chi di voi non vorrebbe mangiare qua? Ragazzi guardate che visuale! Guardate con gli alberi laggiù che sono chiaramente radioattivi! Guardate! Hanno fatto il remake del principe di Belè! Perché mi ha detto sta cosa che mi ha rovinato a giornata? Eccola! Si è incazzato pure Roby stamattina a posto! E no perché non è possibile! Va me ne vado! Lascio la live a Federico Bana! Ciao! Sì così finalmente ci sarà una live con un po' di precisione! Che bello! Quando c'è dati bravi c'è dati bravi eh! Non solo quando... Dov'ha questo sulla proprietà mia? Oh bello! Oh! Non è affrontato! Quello sta a fregà! Che questo è bottega mia! Questo sta a fregà! Ma guarda che è quella roba lì! Oddio che cos'è sto coso! Che cos'è? Ma Michele non ci sta a capire perché stai da là! Era un protettorato inglese! Allora... Allora quando sei sceso dalla nave... Da destra ti è apparso un avviso! Qual'avviso? Eh buona nave! Stai guidando Gondromano! Coglione! Senza freni! Beh spero la potevate fare autolivellante la trega che cavolo! Spento! Senza freni! Spento! Aioh! 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 Sotto maioh! Sotto maioh! Sotto maioh! Sotto maioh! Sotto maioh! Sotto maioh! Gli occhi, le orecchie... Mi rispondo prima che tu faccia domande... Allora se questo sono io... ...dite le tue labbra non arrivi oltre il confine... E queste sono le labbra di un'altra... O di... O di Rino, di chi volete voi... Che ci baciamo! Qui! Cioè teoricamente noi ci stiamo baci... Cioè... Stiamo sconfinando se ci baciamo al confine... Cioè se io... Ma che è? Me capisci? L'uomo formica! Ma che è? Che sono fatti tipo così... Giusto? Allora no... Sbagliato colore... Che sono fatti... Quello è il campo... Che sono fatti tipo così... Ma la parte verde... Tipo così... E qua... E qua... Sono fatti così... E qua spruzzano l'acqua no? E qua spruzzano l'acqua e... Shhh... Shhh... E riga nel campo... Che fanno su e giù... Shhh... E riga nel campo... Spero che abbiate capito... Eh? Boom... Bubba! Bubba e Blatte! E Blatte! Bubba che schifo! Dov'è il cucino? Sono... Sono sempre... E Blatte! E Blatte! E Blatte! Cuoca! Te torna disinfettata pure a te! Chi è? Hai visto mai che... Chi è? Cuoca! Hai visto mai che disinfetta tutto qua? Chi è? Allora... Te torna disinfettata... Cuoca! C'è di Blatte! Aspetta! Oh! Guarda! Oh! Eh... Guarda! 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 Serena! Serena! Guarda! Guarda! Qualcuno la batte! Serena! Serena! Guarda! Federico! 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 Do il fuoco! Momento Pint! Praticamente, Michele, l'americana è quella struttura che sta sui palchi! Ce l'hai presente? Questo è un palco, no? Io lo vedrò fra dieci minuti! Questo è un palco! E questa è tutta quella cosa metallica che sta sui palchi! Ok? Questa è quella struttura metallica che sta... Ha detto che Mr. Macchia avresti messo al buio tutto Sanremo! No! Ti spiego! Prima o poi torna a spacciucchiare! Sbaciucchiamenti! Serena! Serenina! Serenina! Signori, la raga è finita dati in pace! Michele! Guarda! Questo è un po' esagerato! È il punto vendita del treno! È lui! Eh... Siamo lì! Siamo sulla Silver Run! Michele! Ecco! È morto? Ho fatto! Dov'è? Mi sa che abbiamo un problema! Che cazzo... Oddio mio! Diego? Eh, abbiamo un problema! Diego? Che cazzo ho visto? Non ho capito! Non ho capito! Grazie! 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 Ecco! E anche lui ha perso il carico! È a posto! Michele! Non posso farci niente io! Michele ho preso il pizzetto! Ho preso il pizzetto! Michele! Tagliano! Nel pizzetto del ca... A posto! Signori il combo gli è finita! Andate in pace! Sarai è finita! Allora! Bene! Buonotte! Ecco! Allora! Ehm... Ma tagliano la strada! Ma tagliano la strada! No! Robi è in sveglia la strada! Robi è in sveglia la strada! Io vado avanti! Pedelì! Pedelì! È stato il bus che mi ha buttato da qua! Pedelì! Lucciolo! Venite qua! E fai retromarcia! Ma andiamo con Matthew! La 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 la! Ma andiamo con Matthew! C'è che c'è che c'è che c'è! Oddio! Aspetta! Ma leggero sto muletto! Mattii! Ogni tanto vedo che fate dei comandi che non sono mai esistiti! Tipo... Non è di qua del distributore eh! Tipo... Stamattina... Non mi ricordo chi scriveva ranking! Ma che comando è? Teniti a sinistra! Ma quando mai? Ho capito! Hai fatto? Sei già buttato? Perchè questa qui me si è attaccata? Mattii! Mi si è attaccata! Perchè non si taglia? Perchè devi tagliare il palo dalla corrente? Ragazzi non esiste il cantiere ravale! Allora... Claudia non esiste! Il cantiere ravale non esiste! Claudia non esiste! Il cantiere navale non esiste! Claudia non esiste! Il cantiere navale non esiste! Porca di quella... Grazie! No! A capannetto sopra il sasso! No! A capannetto! Andraveneri! Andraveneri! Esterna al campo! Ma... Oddio! No! Chi ha fatto? Non lo so! Mi sa che ha cancellato il trattore così a sensazione! Qualcuno... Qualcuno mi sa dire se l'Unimog è solo PC o anche console! Aspetta ragazzi! Solo PC! E non ci sente! C'è la live muta! Gli rispondo io con Pint! Gli rispondo io con Pint! Ragà! Buoni tutti! Gli rispondo io a Ulme! Aspettate un attimo! Aspettate un attimo! Aspettate un attimo! Aspettate un attimo! Solo PC! Facetti! Se io lo metto così! Lui fa così! Fa dritto! Invece l'operaio che faceva fino a ieri? Tu lo mettevi dritto così! A un certo punto faceva... Faceva così! Invece stavolta non conta il 90, l'80! Lui comunque va dritto! Non so se me capite ragazzi! Non so se me capite! Eccolo! Eccolo ragazzi! E' arriva con Zuzzenzozze! Eccolo! Furi a cavallo del West che non si fa mai il bidet! Eccolo! 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 Guarda che roba! Guarda che roba! Cricchio! Cricchio! Ciao Antovilla! Cricchio! 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 No! Non mi tocca il cavallo per cortesia eh! E' la tua so spavandazione non ha cavallo! E' come qua non sto in macchina! Ma non era finito! E' sparato il cavallo! Ma non era finito il recinto ragazzi! Che vuoi da me? Io so quello che fa le salsicce ma non mi rompe le salsicce! E' morto! Chi è morto? Cricchio! No! E io non ti ho sparato eh! Non mi guarda a me! Chi ho sto a fare le armadi delle pere salsicce? Pinge la rotella! Usa uno e due della tastiera per... Federini sto sotto! Federini! Pinge la rotella! Federini vedo i monti... I monti sibili! Un grodalo che è? Non lo so! Uno scroto che è? Forse devi acquistire... Ma tu dici che il gioco riconosce se io faccio... Aspetta eh! Il drabano io c'ho! E beh è chiaro no? Tirà lo flash e lo drabano? Sai quelli che quando accendi scegna la luce? Eh! Aspetta! Vai via! No no! No no! Guarda eh! Me lo dai in bacetto? Geltrude me lo dai in bacetto? No no dai! No no! Se ne va! Cliccini? Cliccate ragazzi! Cliccate! Scusate anche da una vacca! Cliccate! Clip